Ciao ragazze, anno nuovo e taglio di capelli nuovo la mia parrucchiera è impazzita, sono andata ieri gli ho fatto vedere una foto ma mi ha tagliato più del previsto io li volevo lunghi fin qua ma mai far vedere le foto alla parrucchiera perché è sempre meglio di a voce la misura che volete perché altrimenti succede questo qui adesso sono ancora belli freschi da parrucchiera però voglio vedere una volta lavati io non li ho così liscio spaghetto come saranno comunque è anche giunto il momento con il nuovo anno di fare una bella pulizia per quanto riguarda le palette occhi nell'ultimo periodo ne ho comprate tante come avete visto tra novembre e dicembre ne ho ricevute anche alcune e quindi è giunto il momento di abbandonare quelle che ormai non uso più queste qua sono le ultime arrivate che avete visto in un all make up quindi vi lascio il link non le sto a far vedere una per una proprio perché ve l'ho fatta vedere in quel video e poi ovviamente sono le ultime arrivate e le devo ancora sfruttare tipo la mini gold ancora non l'ho mai utilizzata ne approfitto in questo video anche per farvi vedere due palette che ho ricevuto e che ho acquistato che quindi ovviamente tengo ve l'ho fatta vedere su instagram ma qua su youtube ancora no sono riuscita ad acquistare la mini star palette di natasha denona eccola qua la volevo tantissimo nell'ultimo periodo ma era introvabile pensavo di non trovarla più invece l'hanno rimessa disponibile su sephora sia online ma anche negli store e quindi io l'ho acquistata eccola qua ve ne parlerò sicuramente più avanti l'ho già utilizzata varie volte tranne il verde insomma vi terrò aggiornate e vi farò sapere di natasha denona ho anche la mini nude palette questa qua che ovviamente tengo non vi ho fatta ancora vedere questa qua di peterac in collaborazione con giulia cova che è bellissima questa mi è stata inviata da peterac la finding treasure ho utilizzato finora solo alcuni ombretti quelli sul marroncino è stupenda guardate come si apre al libro e queste sono le colorazioni bellissime ve ne parlerò sicuramente più avanti dietro poi è fatta così anche uno specchio non vedo l'ora di utilizzare anche questi altri colori nel mese di gennaio mi impegnerò assolutamente a non comprare nessuna palette occhi soprattutto così da poter sfruttare bene tutte queste palette è un po' complicato fare il decluttering in questo modo perché devo tirare fuori tutto dal cassetto ma avevo paura di mettere questa videocamera in bilico come facevo con l'altra e quindi ho detto ok anche no facciamolo così il decluttering spero vi piacerà lo stesso ho poi la good vibes di mulac che mi piace quindi la tengo anche se gli ultimi tre ombretti sono quelli che mi piacciono meno sinceramente per il momento la voglio tenere non so se vedete ma ho messo qua una scatola in cartone così quelle che vado a regalare le metto qui dentro di pixie poi ho due di queste qua che mi sono state inviate che sono veramente molto molto simile non ho ancora mai utilizzato una è la reflex light e l'altra è la natural beauty una di queste due la voglio regalare questa qua la terrò perché è la natural beauty e mi sembra abbia delle colorazioni un po' più fredde quindi questa la metto qui mentre questa qua che è la reflex light ha tonalità un po' più calde e quindi questa qua la vado a regalare vedete che è un po' più calda quindi questa la mettiamo qua nella scatola la vado a regalare ho un'altra palette di pixie sempre che mi sono stata inviata la pixie it's judy time devo dirvi la verità è molto simile all'altra però per il momento questa la vorrei tenere ho poi anche questa qua di pupa che è la make up stories nel colore spicy nude mi piace moltissimo poi questa qui anche per i viaggi la trovo validissima lo specchio ha comunque colori naturali quindi questa qua la tengo veniamo poi a questo contenitore questo porta palette bellissimo è di by allegory e lo trovate su amazon ho già in mente tra queste palette quelle che voglio dar via quindi ve le faccio vedere subito questa qua di Too Faced due di Too Faced la chocolate bar un pochino mi dispiace sono sincera però veramente ormai non la uso più e non lo so quando l'ho aperta ho detto ok carina però una volta mi piaceva così tanto adesso quando la guardo dico boh niente di che sinceramente non lo so ha una profumazione veramente buonissima di cioccolato davvero stupenda però ecco come palette ormai veramente non la uso più sarà che anche vari anni quindi ho di meglio sinceramente mi dispiace un sacco però è arrivato il momento di darla via quindi la metto qui altra palette che voglio assolutamente dar via è un'altra di Too Faced la semi sweet chocolate bar questa qua mi era stata inviata proprio da Too Faced non si sa come non si sa perché c'era un periodo in cui Too Faced mi mandava della roba vabbè io stessa scioccata io scioccata proprio comunque è questa qua e anche questa è un po' sulla scia dell'altra però ha tonalità un po' più scure e onestamente anche questa qua ormai non la uso veramente da tantissimo e ho altre palette decisamente più belle davvero ormai è arrivato il momento di darla via di Too Faced invece tengo questa qua la sweet peach che invece questa qua mi piace tantissimo la sfrutto principalmente in primavera e estate in inverno praticamente mai e soprattutto ci sono alcuni colori che uso un sacco come questo qui che è l'ascius c'è un po' anche di fossettina e più re veramente molto molto carina questa qua e io questa la tengo assolutamente perché ogni volta che la uso poi mi escono dei trucchi molto belli e mi piace un sacco utilizzarla in primavera e estate di Too Faced poi ha assolutamente la gingerbread spice questa è veramente la meraviglia quindi io alla fine di Too Faced come vedete ho palette molto più belle di quelle là quindi io queste due assolutamente le tengo poi abbiamo in questo contenitore quelle di Anastasia Beverly Hills di Anastasia Beverly Hills ho queste tre le tengo tutte ho poi anche questa la New Entry la Carly Bible queste sono decisamente le più belle ogni tanto le vado a ripescare ogni tanto le sfrutto questa qua è la Mod Renaissance non sto in questo video a farvi vedere gli swatch perché comunque sono palette che avete già visto e rivisto varie volte questa è la Norvina stupenda questa qua e quindi insomma è più che altro un video per farvi vedere tutte le palette e per insomma decidere quale dar via e questa è la Soul Tree davvero bella la Soul Tree è insomma adatta per il periodo festivo invernale è una palette fredda veramente bella di Anastasia dimenticavo la Soft Glam che adoro follemente forse è la mia preferita tra tutte quindi ovviamente la tengo di Kat Von D poi ho questa qui che è la Shade Light Eye Contour Palette l'ho desiderata tantissimo inizialmente appena era uscita Kat Von D qui in Italia però vi dico la verità l'ho sfruttata davvero poco però allo stesso tempo mi dispiace regalarla perché comunque l'avevo pagata tanto e comunque ancora in ottime condizioni e insomma la voglio per il momento tenere ancora dovrei sfruttarla un po' di più ecco però perché un trucco tutto matt non lo so non me lo vedo benissimo comunque vabbè in questo contenitore due le abbiamo regalate ho poi queste due palette che penso proprio di dar via una è la Cocoa Blend di Zoeva questa la voglio dar via ce l'ho dato tantissimo tempo l'ho anche ripescata un po' di mesi fa ma faccio fatica ad utilizzarla non perché non sia bella è davvero bellissima ma praticamente ho già altri colori in altre palette quindi nonostante sia veramente bellissima la qualità è ottima io la metto via per regalarla perché alla fine cioè tenerla qui e non utilizzarla mi dispiace un sacco quindi preferisco darla a chi la sfrutta ecco è ancora in ottime condizioni gli ombretti di Zoeva sono veramente ottimi quindi piuttosto di tenermela qua nel cassetto io preferisco darla via e a malincuore do via anche la Nude Tude di De Balm questa qua questa sinceramente la terrei solo per il packaging e anche perché è adatta per i viaggi perché è in cartone l'ho portata in giro varie volte non si è mai rovinata però a onor del vero uso solo tre ombretti di questa palette ovvero Stand Offish che è questo rosa che comunque riesco a trovare anche in altre palette questo Borgogna che è sexy che si trova benissimo in altre palette e poi Sophisticated mi sembra comunque il marroncino riesco a fare un trucco molto carino però oggettivamente ce l'ho anche in altre palette quindi a malincuore la cederò invece questa qua di Urban Decay che è un'edizione limitata di Gwen Stefani la voglio tenere perché c'è questo ombretto bucato che mi piace un sacco veramente tantissimo che si chiama Pop ci sono alcuni colori di questa palette che vi dico la verità non uso mai come questo blu non perché non mi stia bene il blu ma perché non è un blu di qualità sinceramente ho anche questo giallino non sono il massimo questi tre finali però gli altri devo dire mi piacciono moltissimo e ogni tanto quando mi prende lo schizzo mi trucco con questa palette e poi comunque è un'edizione limitata quindi la voglio tenere ho preso un po' di palette dal cassetto oddio ne ho veramente un sacco palette e ombretti anche singoli che magari sono nelle palettine ad esempio questo qua di Neme Cosmetics della collezione Mutation regalo purtroppo ragazze io li uso ormai talmente poco questi ombretti di Neme Cosmetics in cialda che è inutile tenerli qua sono sincera li do via anche perché comunque sono ombretti come dire naturali quindi vanno a deteriorare prima rispetto ad altre polveri quindi questo qua lo metto via e lo regalerò ahimè voglio regalare un'altra palette di Too Faced siamo alla terza di Too Faced questa è la Just Peachy Matte che avevo comprato è bellissima come palette se amati toni pescati se vi stanno bene anche indosso i toni sul pesca il problema è che a me stanno malissimo la Sweet Peach è un po' diversa perché la Sweet Peach ha toni sì pescati ma rosati questi invece sono proprio pesca pesca matte e mi stanno malissimo ma l'ho usata una volta vedete che è veramente intatta non so se qualcuna di voi è interessata all'acquisto potrei anche valutare perché questa è veramente una recente non ha tanto tempo è veramente tenuta benissimo quindi potrei pensarci ha un profumo buonissimo di pesca però purtroppo non mi stanno bene i colori non la uso mai 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 usata una volta e mezza quindi è un peccato ma è inutile tenerla qua quindi via voglio regalare anche questa palettina qua di Corazona che mi era stata inviata dal sito Maku Beauty è carina però ha tonalità molto calde che io uso poco queste tonalità sul rossiccio oro di oro ne ho altri molto più belli il verde praticamente non lo uso quasi mai quindi la regalo di Neve Cosmetics regalo poi anche queste cialde mi erano state inviate tempo fa molto carine molto scure quindi io alla fine non le uso mai e quindi le regaliamo ho qua gli ombretti di Peter che voglio tenere la First Love di Clio la tengo assolutamente mi piace tantissimo di Huda Beauty quelle che ho mi piacciono tutte quindi le tengo tutte le Nude Obsession Light e Medium la New Nude poi ho anche la Neon Obsession ve ne ho parlato nei top e make up quindi non sto qui a farle vedere questa qua di Smashbox una delle pochissime palettine di Smashbox che ho anche questa è perfetta per i viaggi perché è piccolina quindi questa qua la tengo ho un'edizione limitata è troppo carina e le palette e gli ombretti sono veramente fatti bene regalo questa qua di Pixi che è comunque carina ma la uso poco e per i viaggi ne ho altre un po' più belline e quindi la diamo via le Cutie Palette anche queste qua le tengo poi questa palettina di MAC mi terrò la palettina mentre gli ombretti li regalerò a tutti questo è il famoso Satin Top che avevo utilizzato tanto infatti è un po' scavato ma ormai non lo uso più come ombretto quindi li regalerò di Urban Decay poi ho anche queste due palette che mi sono state inviate da Urban Decay quando ancora mi inviava le cose Urban Decay poi non mi ha più inviato niente comunque queste qua le voglio tenere perché questa è la Naked Cherry a me piace tanto questa palette veramente bellissima e mi stanno benissimo i colori quindi la voglio tenere la voglio sfruttare ancora la riutilizzerò in primavera estate e poi c'è la Naked Reloaded questa è una recente e per look da tutti i giorni è davvero carina lo so io tengo sempre le scatole non ditemi niente carina anche questa qui per look da tutti i giorni e questa anche per portare nei viaggi secondo me è utile perché è piccolina sottile ci sta questo porta palette l'ho trovato da Primark che è costato 6 euro ve lo consiglio tantissimo perché è davvero molto comodo voglio regalare questa qua di Essence non so cosa mi sia preso avevo preso questa palette Hello New York in queste colorazioni che non sono assolutamente da me non mi ci vedo assolutamente con queste colorazioni quindi la regalo ho quelle di cui vi ho parlato nei Top Makeup 2019 ovviamente le tengo le amo tutte quelle di Nabla soprattutto l'ultima che è ancora bene da sfruttare le tengo qui ne ho alcune ma ne ho altre nel cassetto queste qua sono le altre due di Nabla strano ma vero penso proprio di aver finito con le palette mamma mia ritirandole fuori ne ho veramente tante quindi sono contenta di essere riuscita a regalare tutte queste qua adesso le conto sono una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici dai dodici tutte queste qua le ho regalate bene ragazze questo è tutto fatemi sapere che cosa ne pensate del mio decluttering se sono stata brava oppure no o forse potevo fare di meglio comunque al momento mi ritengo soddisfatta comunque con l'anno nuovo un po' di pulizia ci vuole io vi mando un grossissimo bacio soprattutto vi auguro un buon anno alla prossima ciao